Allora, io praticamente venivo da un percorso cattolico, però il mio percorso non è stato proprio convincente, quindi diciamo che non ritrovavo molti valori che magari facevano parte anche della mia vita e dopo quindi un lungo periodo in cui non avevo molto perso fiducia, ho avuto la possibilità di entrare nella chiesa protestante e ho ritrovato in essa dei valori che mi sono più vicini, soprattutto anche legati al fatto che in essa ho trovato anche una certa apertura sociale su tante tematiche che nella chiesa cattolica non c'erano e ho anche trovato una certa connessione con i problemi attuali anche della vita, non solo cose magari scontate, retoriche, tutto questo insomma, oltre a trovare un buon gruppo e tutto, ecco, questo mi ha portato a inserirmi nella chiesa protestante e tuttora sono qui.